Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è intervenuto sulla polemica che vede protagonisti la cantante Emma Marrone e il consigliere del Carrocio Massimiliano Galli Il consigliere avrebbe rivolto insulti irripetibili alla cantante, che dal palco di uno dei suoi concerti aveva espresso una sua opinione riguardo gli immigranti dicendo i che i porti dovrebbero essere aperti per tutti Questo aveva scatenato il commento del consigliere che aveva suggerito alla cantante di aprire un'altra cosa Un anime il sostegno da parte di tutto il mondo dello spettacolo e anche della gente che aveva condannato queste parole come sessiste tanto che il consigliere Galli è stato poi giustamente espulso dal partito Il leader Salvini è intervenuto e a chi le ha chiesto un suo parere sull'accaduto ha risposto senza mezzi termini, ha detto un'idiozia, riferendosi al consigliere Massimiliano Galli, spero di riuscire ad andare a un concerto di Emma Marrone se ne avrò tempo, ha poi concluso Questo gesto rasserenante è stato molto apprezzato, e nonostante non c'è stata ancora la replica della cantante in proposito Sarebbe comunque un bel gesto da parte di Salvini quello di andare ad un suo concerto A dimostrazione che si possono avere idee diverse, ma che queste possono convivere ed essere espresse con educazione e correttezza